musica che bento ragazzi io sono alghysus oggi siamo in un nuovo video del canale oggi siamo in un... oh che stai facendo? NO! attenzione il tuo canale è stato manomesso da qualcuno la registrazione verrà interrotta ok bella a tutti ragazzi io sono a Roma stamattina ultimo giorno di scuola come potete sentire è finita di qualcosa mi mancheranno molto gli insegnanti a me no vorrei che possano tutti bruciare la faccia tua noi siamo qua saluta ma lui sta lavorando adesso è un panculo è meglio che dire è finito andate tutti a morire male non me ne prego un cazzo di voi non credo di mettere questa parte qua spero che passiate senza debito no studiate quest'estate mi raccomando ciao ragazzi buongiorno ragazzi primo giorno di vacanza sono appena svegliato salutate come dire adesso andrò a fare colazione poi farò il letto perchè una cosa così non la posso lasciare questo è il letto in questo momento oggi chiamerò rosso farebbe qualcosa ci vediamo più tardi ciao ciao buonasera ragazzi sono ancora io sono 10 alle 7 al luglio si è tornato dal lavoro stasera purtroppo non riuscirò a vederlo perchè col tempo brutto non si esce io non esco poi con il rosso rosso come al solito non fa un merito cazzo si vi terrò aggiornati il vlog penso che uscirà sabato pomeriggio glielo invierò a cinema poi dopo lo pubblicherà lui va bene